Cos'è una tabella pivot? Praticamente noi possiamo andare su un set di dati e creare la pivot e giocare con questi dati a nostro piacimento. Come si fa a crearla? Basterà andare a selezionare l'intervallo di nostro interesse, andiamo nel menu inserisci, da tabella, tabella pivot, da tabella intervallo e gli diamo l'ok. Si creerà un nuovo foglio con la pivot. Ora noi qui in basso a destra vedete che abbiamo dei riquadri, filtri, colonne, righe e valori. Noi potremo dare la data sulle righe e lui vedrete che farà una compressione del dato, non ci sono più le dati ripetute come le vedevamo qua. Lui le comprime. Se noi mettiamo la quantità sui valori, lui esegue in automatico un'aggregazione delle informazioni. Quindi vedete che in data 2 ho venduto 25 prodotti. Posso giocare con queste informazioni giocando con i riquadri. Quindi ad esempio il prodotto che avevamo in verticale lo posso mettere in orizzontale sulle colonne. Oppure la sede la posso mettere nei filtri in Altro. Quindi se vado qui e voglio vedere che cosa ha fatto la sede di Alward, faccio un filtro ed ottengo il risultato con i prodotti orizzontalizzati.